E per Carnevale arriva persino la maschera di Zio Michele in vendita a Napoli. Chiara Prato. Il buon gusto non vende, il cinismo invece sì. E allora al diavolo buonsenso e rispetto. Oggi il commercio è tanto in crisi. Proprio per questo non è un fatto pubblicitario, però bisogna inventarsi qualcosa. Il signor Carlo se l'è inventata grossa e la pubblicità se l'è fatta eccome. Tra i travestimenti per bambini del suo negozio nel rione Sanità, tra un pulcinello e un arlecchino, c'è anche lo zio Michele. Michele Misseri, l'assassino presunto tale di Sarascazia da vetrana. Una camicia da contadino, un cappello da pescatore, un costume a prima vista anche banale, se non fosse per quella corda in mano. Dettaglio macabro e perverso. Eppure... L'hanno acquistato, è un prodotto che hanno acquistato e noi non abbiamo convinto le mamme a comprarlo, anzi è stato di loro piacimento a comprarlo. Perché una mamma dovrebbe vestire suo figlio da assassino resta un mistero al di là di ogni criterio. L'anno scorso nella stessa vetrina c'era un costume da totorina con tanto di lupara. Vendere un vestito in più val bene una pessima reputazione.